E vuoi proprio metterti questa gravatta nera? Ebbè? Siamo ancora tutti vivi. Per miracolo! Per miracolo! Che processo è? È quello intentato da Rosario Chiarchiaro. Per l'amor di Dio! Bocca, bocca perla! Voglio la mia patente. La patente di iettatore. Contanto di bullo. Legale. Iettatore patentato dal reggio tribunale. Oh, fai attenzione, eh? Oh, che fa? Lo sapete.